Bene, allora vi lasciamo con questo duo, il suo stile, con Miro degli Stray Kids Un momento, microfono, che bello, tieni un microfono Prova, prova, prova Possiamo osservare la bellezza degli Stray Kids intanto Bancian è molto bello Bancian 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 Oh damn Oh damn Oh 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 Hey Oh 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 ahi ahi a tono di nee ahi aa è il serio è ah ok è falso com'è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti